Siamo sempre così concentrati nei nostri impegni quotidiani che ci dimentichiamo di osservare il mondo che ci circonda. Osservare è illuminante e costruttivo, ci permette di interpretare l'oggi e ci aiuta a ricercare la soluzione che migliorerà la nostra vita e quella degli altri. La città è il primo scenario fuori di noi ed è un essere in continuo mutamento. È la messa in scena dell'opera dell'uomo e da ogni suo dettaglio appare evidente che l'evoluzione non si ferma mai. Esattamente come nella vita dell'individuo, di un ambiente, di un'azienda. Bisogna saper cambiare, sempre, altrimenti si è destinati a scomparire. Non è la specie più forte a sopravvivere, ma quella più pronta al cambiamento. Il passato è storia dalla quale imparare. Il presente è già passato solo a nominarlo e il futuro è adesso. Ora è già domani. Alla prossima